Musica Musica Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dalla Palacus di Cagliari per assistere alla dodicesima giornata del campionato nazionale di Serie A2 di basket femminile tra il Cuscaglie e la Palacalestro femminile Firenze una sfida importante per le Cussine ferme all'ottava posizione in classifica con 8 punti terza posizione invece per la formazione toscana con 16 punti al suo attivo agli ordini dei signori Leo Mamone della sezione di Novara e la signora Anna Scolaro della sezione di Torino scende in campo il Cuscaglie in completo bianco e la Palacalestro femminile Firenze con la divisa rossa Prima palla 2 sulla palla c'è Caldaro con la maglia numero 8 per il Cuscaglie con la maglia numero 1 Pugioni con la maglia numero 12 Cecili con la maglia numero 17 Prosperi prima palla 2 vinta dalla formazione ospite e con la maglia numero 23 Anna Liubenovic questo il quintetto proposto da coach Federico Sciascia in avvio di partita risponde Firenze che va subito a segno con la tripla messa a segno da Capitan Rossini risponde Firenze che parte con Poggio con la maglia numero 15 con la maglia numero 10 dell'Olio con la maglia numero 8 Rossini con la maglia numero 45 De Cassan e con la maglia numero 3 l'altra Rossini vado a dire Marta Rossini il capitano invece la numero 8 Silvia Rossini 3 a 0 il parziale possesso palla per il Cuscaglie mentre il coach della formazione ospite è Stefano Corsini adesso palla dentro spalle a canestro esce Pugioni lo scarico per Liubenovic che cerca subito di arrivare al pareggio palla che danza sul ferro recuperata subito da Firenze con il possesso palla organizzato da Marta Rossini lo scarico Silvia Rossini palla ancora lungo il perimetro ancora la penetrazione di Marta Rossini palla che tocca il ferro Liubenovic al rimbalzo Ceccini per Liubenovic per Liubenovic poi il palleggio di Prosperi ancora la sfortuna in casa Cuscaglieri con Caldaro con la palla che danza e gira sul ferro poi finisce fuori il rimbalzo ancora per la formazione toscana il palleggio con Rossini lo scarico questo è la numero 15 Poggio De Cassan ancora per Poggio palla dentro la conclusione poi c'è il rimbalzo gestito dalla Cuscaglie con Ceccini che può ripartire Pugioni il palleggio si fa filare il pallone Liubenovic che va sino nel fondo palla appoggiata alla tabellone questa volta è vincente l'attacco del numero 23 per il 3 a 2 in favore di Firenze adesso c'è il fallo fischiatto contro Caldaro la conclusione dalla distanza poi c'è il rimbalzo tenuto dalla numero 15 Poggio la conclusione precedente di De Cassan Ceccini Liubenovic si stacca Pugioni non va alla conclusione dalla lunga distanza palla per Ceccini lo scarico ancora per Liubenovic piedi piantati a terra a gesto di stizza anche per Liubenovic per la sfortuna sul tiro precedente questa volta è vincente 5 pari il parziale 7 minuti e 16 secondi ancora da giocare in questo primo quarto adesso Rossini si è in fondo poi c'è il tocco di Liubenovic il numero tocca per ultimo e lei che manda sul fondo si parte con Rossini ancora in posto palla la penetrazione palla sul lato poi c'è il rimbalzo ancora di Poggio Rossini ancora per l'altra Rossini che va alla conclusione da tre punti sulla sirena ed è vincente 8 per Firenze 5 per il Cuscagliari in palleggio adesso con Pugioni Prosperi ancora Pugioni lo scarico per Liubenovic non si capisce con Cecili palla che termina in rimessa laterale De Cassan si mette in gioco per Silvia Rossini il palleggio del capitano della formazione fiorentina adesso l'altra Rossini lo scarico Prosperi non arriva ad intercettare il pallone ancora Silvia Rossini in palleggio lo scarico cioè la palla persa dal numero tre Marta Rossini può ripartire il Cusca con Prosperi in palleggio ancora Prosperi non sa chi affidare la palla lo fa poi successivamente verso Pugioni ancora Pugioni che viene fermata con un fallo però dalla numero 45 Flavia De Cassan Pugioni Cecili libera va alla conclusione da tre punti però tocca il fermo poi ancora Cecili che va a contendere il pallone all'avversaria c'è il contatto secondo il direttore di gara la signora Anna Scolaro della sezione di Torino fallo in favore della PFF pallaccarestro femmine Firenze ancora Rossini palla dietro la schiena il palleggio poi perde il contatto col pallone lo recupera Vastino in fondo palla appoggiata alla tabellone arrivano le mani le braccia lunghe di Liubenovic poi palla dentro per Pugioni che la rimette all'indietro dove arriva Caldaro palla recuperata però ancora da De Cassan 8 per Firenze 5 per il Cuscaglieri ancora la tripla metà messa a segno da De Cassan che allunga 11 a 5 Liubenovic perde palla poi la recupera pressata ancora da Rossini Cecili non c'è fallo secondo il leggeretto di gara la conclusione da tre punti tentata da Cecili alla scadenza dei 24 secondi mentre sono pronti già due cambi per Federico Ciascia fuori Liubenovic dentro Delia Gagliano dentro anche la numero 11 Sajas al posto di Giulia Cecili ancora Rossini liberata dal blocco portato dal numero 10 dell'olio adesso la palla recuperata da Caldaro che poi la protegge la Fidas a Ias subito in palleggio la numero 11 che cerca e trova Prosperi la penetrazione di Prosperi che fa la conclusione palla che danza sul ferro non riesce Gagliano a recuperare il pallone ancora Rossini Prosperi non arriva per poco sulla palla la conclusione ancora di Rossini dell'olio poi c'è la stoppata di Gagliano fuori pugioni dentro Niola più 6 ancora per Firenze che sta vincendo di Granluca la sfida dalla lunga distanza un'altra tripla di Rossini che sembrava in difficoltà media altissima dal perimetro per Firenze 14 per Firenze 5 per il Cus ancora Prosperi palla dentro c'è il fallo di Dell'olio fallo su Caldaro adesso Gagliano la finta cerca di arrivare sotto il la tabellone la conclusione un po' forzata di Gagliano che però ormai avva soltanto quella soluzione si era costruita la provata non è andata a buon fine riparte Firenze ancora palla dentro palla persa palla poi contesa recuperata dalla Cappardia Sajas Gnola ancora per Sajas in velocità viene fermata però molto bene da De Kassan sul palleggio poi non c'è il tocco c'è l'errore invece di De Kassan ancora Caldaro si libera Gagliano ancora Gagliano in penetrazione non trova lo scarico per Sajas per il tocco di Capitana Rossini Gagliano per Prosperi pensa alla conclusione dalla distanza invece poi entra sino in fondo c'è il canestro con fallo a segno anche col libero 14 per Firenze 8 per il Cuscagna in 2 minuti 37 secondi alla termine di questo primo quarto ancora Rossini c'è il movimento dell'altra Rossini Silvia Rossini controllata da Gnola ancora Marta Rossini altra tripla di Rossini che porta a 17 i punti per Firenze non si riesce a trovare una soluzione alla conclusione dalla lunga distanza di Rossini che sta spaccando in due la partita posto di Pera Gagliano che viene poi stoppata dal numero 15 Poggio adesso c'è il cambio fuori Saias dentro Cecili Prosperi la conclusione della distanza Palla che tocca il tabellone poi il ferro il rimbalzo ancora da parte di Poggio che mette in movimento Rossini dell'olio lo scarico per Speziali ancora palla dentro la stoppata di Gagliano può ripartire così il Cus lo scarico ancora Pera Prosperi sotto Canestro c'è la conclusione Palla che danza sul ferro poi tocca il tabellone finisce a Canestro 17 per Firenze 10 per il Cus Cagliari 1 minuto e 20 secondi ancora da giocare in questo primo quarto ancora Rossini non trova lo spazio per andare alla conclusione dalla lunga distanza poi il rimbalzo ancora favorevole a Firenze conclusione lunga arriva Cecili dalla parte opposta a recuperare il pallone adesso palla dentro per Gagliano schiacciata a terra Caldaro con facilità sotto Canestro sull'imbuccata geniale di Delia Gagliano porta a 12 punti delle Cussine meno 5 adesso per la formazione di Federico Sciascia adesso c'è il fallo vediamo viene assegnato contro il Cuscagli di fallo della numero 12 Giulia Cecili dentro di nuovo Sajas e Pugioni per Cecili e Prosperi ancora Rossini viene addirittura raddoppiata poi c'è il cambio della marcatura con la scalata di Gagliano che poi va a stoppare anche l'avversaria adesso Niola chiedeva palla Gagliano lo scarico per Pugioni la fitta di Pugioni Sajas può provare la conclusione da 3 punti non rischia perché pressata ancora Pugioni c'è il blocco di Caldaro scarico per Sajas Sajas entra tra le maglie di Firenze poi Gagliano alla rimbalzo la conclusione di Gagliano tocca il ferro rimbalzo ancora per Firenze scadono poi i secondi per il primo quarto si va alla termine di questo primo quarto con il parziale 17 a 12 in favore di Firenze di Firenze secondo quarto di questa sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A2 di basket femminile 17 per Firenze 12 per il Cuscaglieri si parte con Pugioni per Sajas Caldaro Gnola ancora Sajas e Gagliano movimento c'è il blocco di Gagliano che libera ancora Pugioni che va alla conclusione pallone corto ma che poi arriva a destinazione per il punto numero 14 del Cuscaglieri Cuscaglieri che è ripartito con Pugioni con la maglia numero 1 con la maglia numero 8 Caldaro adesso Gagliano recupera palla c'è il fallo su Gagliano non fischiato non si capisce perché adesso va a canestro Gagliano mentre qualche problema fisico per la numero 10 Sofia Dell'Olio diciamo Cuscaglieri che è ripartita con Pugioni Caldaro la numero 11 Sajas la numero 15 Miola la numero 22 Gagliano Gagliano risponde Firenze invece con la numero 3 Marta Rossini con la numero 9 con la numero 9 stavo seguendo l'azione per vedere se andava a canestro la numero 10 Dell'Olio la numero 9 De Marchi la numero 11 Speziali e la numero 15 Poggio questo il quintetto riproposto da coach Stefano Corsini ricordiamo invece che il coach del Cus è Federico Sciascia in lunetta Sofia Dell'Olio per Firenze 9 minuti e un secondo al riposo lungo 16 per il Cuscaglieri 17 adesso 18 per Firenze che avrà un altro tiro libero assegnò anche col secondo più 3 adesso per la formazione toscana si per la Miola poi Gagliano si fa sfidare la palla pressata dal numero 15 Poggio ancora questa palla per Miola che poi perde però palla nella penetrazione in palleggio Rossini ancora Rossini sino in fondo mantiene il pallone in campo non calpesta la linea di fondo non si porta il pallone fuori adesso conclusione con pallone però troppo lungo poi c'è la conclusione deviata Daniola Daniele Gagliano adesso c'è il cambio fuori Caldaro dentro Jubenovic per mettere fisico e centimetri al centro della difesa della formazione caglieritana adesso possesso palla per il Cus terminati i secondi in favore della formazione ospite si riparte ancora con Saías lo scarico per Gagliano Miola esce dai blocchi Saías riceve lei non trova lo scarico ancora per Gagliano adesso Jubenovic non va alla conclusione subisce invece fallo sbaglia il primo libero Jubenovic a segno invece con la secondo ancora più due per a Firenze pressing alto anzi direi altissimo per il Cuscaglie adesso c'è il fallo di Saías con la giocata da speciali che poi scarica per Rossini pensa alla conclusione dalla distanza c'è il fallo ancora di Sajas corre subito ai ripari Federico Sciascia chiamando fuori Sajas per preservarla ovviamente e non caricarla di ulteriori falli dentro Prosperi adesso palla recuperata ancora da Niola la gioca Speziali che ha un altro passo rispetto all'avversaria palla dentro per De L'Olio che tocca il ferro il rimbalzo e ancora opera di Niola Liubenovic c'è il blocco di Gagliano palla filata a Pugioni ancora Liubenovic si scontra anche con Niola al suo Prosperi tre secondi per andare alla conclusione blocca i piedi per terra e la mette la tripla per il Cuscagliari 19 pari il punteggio anzi non era la tripla era da due a noi sembrava invece fosse fuori dalla perimetro ovviamente il piedetto cava la linea adesso Canesso ancora per Firenze 19 a 21 Niola c'è il movimento di Pugioni cerca di liberarsi Gagliano un po' di confusione adesso c'è punto sotto Canessimo Gagliano c'è il blocco poi va a chiedere il pallone palla appoggiata alla tabellone che poi rientra in campo ancora Gagliano alla ricerca della palla che però è opera di Firenze dell'olio per De Marchi ancora De Marchi in palleggio la penetrazione De Marchi lo scarico per appoggio che con i piedi per terra porta a casa altri due punti per Firenze che allunga di nuovo più 4 per la formazione in maglia rossa adesso Pugioni subisce fallo fallo di Rossini sulle gambe la numero 11 speciali infatti viene richiamata subito in panchina dentro di nuovo De Cassan e Silvia Rossini Cialdaro uscita anche Deglia Gagliano ancora Pugioni per Agnola penetrazione poi si ritrova lì la palla viene fermata da due avversarie posso palla ancora per il per Firenze De Marchi scarica per Rossini contro la Prosperi che cerca di evitare il blocco la compagna Prosperisino in fondo palla poi recuperata ancora da Ljubbenovic affilata Pugioni che riparte Gnola movimento di Prosperi che riceve adesso dai blocchi anche Pugioni ancora Pugioni la tripla di Pugioni palla che tocca il ferro il rimbarcio favorevole ancora Firenze che riparte con De Marchi movimento di Capitana Rossini che riceve De Marchi ancora libera adesso fallo di Pugioni De Marchi per Rossini c'è il fallo di Prosperi un lunetta Rossini mette a segno il primo tiro libero a segno anche il secondo allunga di nuovo Firenze più 6 4 minuti e 25 secondi al riposo lungo adesso palla dentro per Prosperi ancora Caldaro subisce fallo canestro più libero per Il Cus 21 a 25 non va a segno il libero aggiuntivo di Caldaro rimbalzo ancora per Firenze con Rossini messo De Marchi sbaglia De Marchi perde palla per la sua fortuna la più vicina è Rossini che gestisce il pallone va alla conclusione ma sbaglia ancora ripartenza per Il Cus con Prosperi che cerca la penetrazione ma perde palla ancora nel palleggio poi c'è il passaggio filtrante di Marta Rossini non riesce a controllare Dell'Olo fuori Pugioni dentro Ceccini 3 minuti 40 secondi ancora Liubbenovic adesso c'è il contatto sottocanestro subisce fallo Prosperi dentro Pugio al posto di Flavia De Cassan Caldaro dalla fidata a Ceccini si gira poi Caldaro la sterzata di Caldaro che va alla conclusione subisce ancora fallo fallo della Lunga numero 10 dell'Olio Rientra Speziali lascia il campo De Marchi 21 a 25 in favore di Firenze 3 minuti e 20 secondi alla riposo lungo Caldaro a segno con il primo tiro libero la segno anche con la secondo 23 a 25 Rossini palla dentro Caldaro stoppa la diretta avversaria che è Pugio che va giù poi deve recuperare palla dalla parte opposta per Prosperi la finta arresta la corsa va alla conclusione per il pareggio del Cuscaglieri 25 pari aggiornato in ritardo il tabellone adesso ancora una tripla da parte di Rossini che appena ha lo spazio per andare alla conclusione non ci pensa due volte di 3 per Firenze 2.30 alla termine del secondo quarto adesso Cecili Caldaro non trova la via della canestra pallaria tocca il ferro rientra in campo ancora Marta Cecili scusate ancora Marta Rossini ha fatto un mix la stoppata questa volta sì di Cecili che sporca la traiettoria del pallone arriva anche il time out 2 minuti 2 secondi ancora da giocare in questo secondo quarto 25 per il Cus 28 per Firenze rimessa in gioco tempo scaduto per la ripresa del gioco non la prende benissimo il tecnico Stefano Corsini adesso possesso palla per la formazione padrona di casa Cecili il palleggio palla filata Prosperi ancora Niola adesso Gagliano Niola ancora Gagliano che porta il blocco cerca il taglio di Liubenovic Niola ma non riesce il pallone poi recuperato ancora da Rossini sbaglia questa volta la numero 11 speziali non la prende benissimo Corsini ma molto meglio rispetto a prima lo stava facendo letteralmente volare il tabellone uno dei tabelloni che copre che sta davanti alla propria panchina adesso Prosperi la tripla di Prosperi palla che tocca il afferro Gagliano tocca ma non riesce a servire Liubenovic ancora speziali lo scarico Rossini la finta poi cerca il centro per andare alla conclusione ottiene altri due punti siamo entrati nell'ultimo minuto di questo secondo quarto 25 per il Cus 30 per Firenze verso Prosperi Gagliano questo palla di Pugioni il blocco di Gagliano la conclusione di Pugioni con palla che tocca il ferro rientra in campo ma sembra avere la caramita Marta Rossini adesso palla recuperata da Cecili che può andare in contropiede Cecili palla schiacciata a terra per Pugioni che va a segno 27 a 30 15 secondi ancora da giocare ultimo possesso palla per Firenze con Silvia Rossini che gestisce il pallone lo affida all'altra Rossini con la conclusione da tre punti con palla che tocca il ferro non va a segno si chiudono così i primi due quarti con il parziale di 27 a 30 in favore di Firenze e noi andiamo in pausa Kimbo his art goes ride e noi e noi vi Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Rossini 5 secondi per andare alla conclusione ancora difesa forte della Cus forzata la giocata a Prosperi recupera il la pallone può ripartire ancora il la Cus Cecini Luebenovic si fa fidare il la pallone Gagliano spaglia Canestro protegge lei il la pallone la finta poi va alla conclusione ma c'è il fallo fallo su Delia Gagliano che è entrata nel Cagliaritano dopo l'esperienza con la Dinamo femminile in Serie A dopo l'esperienza con il San Salvatore giocatrice di Alghero va a segno il secondo tiro libero 31 per il Cus 32 per Firenze adesso Poggio va alla conclusione che è vincente più 3 ancora per Firenze adesso Gagliano Luebenovic sotto Canestro con una mano manda a spasso la sua diretta avversaria firma il punto numero 33 per il Cuscaglieri contro il 34 di Firenze speciali a Fira Rossini ancora speciali la penetrazione infrazione di passi per la numero 11 Toscana dentro Niola fuori Prosperi partita bene comunque il Cuscaglieri in questo terzo quarto ancora Pugioni la penetrazione si è in fondo palla appoggiata alla tabellone altri due punti per Arianna Pugioni che ha chiuso i primi due quarti con quattro punti personali in vantaggio il Cusca fallo di Niola cambio con Speziali che lascia il posto a De Kassan ancora quattro minuti e cinquantatré secondi da giocare sul cronometro Rossini la sterzata per lo scarico per l'altra Rossini il capitano della palacanestra femmine Firenze palaglia tocca il ferro rimbalzo in favore del Cus adesso Gagliano scarico per Liubenovic ancora Pugioni nasconde il pallone lo protegge e porta ancora in vantaggio il Cuscaglieri 37 per il Cus 34 per Firenze 4 minuti e 15 secondi da giocare in questo terzo quarto ancora ancora Rossini entra lei in palleggio dal fondo palla appoggiata al tabellone più uno ancora con il Cus c'è il fallo di De Kassan su Pugioni Gagliano Liubenovic la triple up provata da Liubenovic arriva Gagliano dalle retrovie e l'Agers radica il pallone dalle mani degli avversari lo serve a Cecili Liubenovic palla dentro ancora per Liubenovic c'è la spinta sull'attaglio di Ana Liubenovic più uno per il Lacus ancora Liubenovic Pugioni da tre punti corto il tiro poi c'è il pallone recuperato da Cecili che va alla conclusione a Canestri ma erano già trascorsi i secondi a disposizione del Cuscagliari pronta Saia a bordo campo adesso Rossini De Kassan ancora De Kassan Liubenovic la controlla tocca la linea di fondo De Kassan nel posto palla mani tra i capelli per coach Stefano Corsini due minuti 58 secondi fuori un'ottima Cecili dentro Saia Saia Liubenovic palla fidata a Gagliano spalle a Canestro ancora Saia lo scarico per Liubenovic palla dentro intercetta a Gagliano Liubenovic non si accorta dei secondi che trascorrevano non è andata la conclusione ha preferito servire Gagliano sotto canestro posso palla adesso per Firenze con Rossini lo scarico per appoggio la tripla tentata d'appoggio il rimbalzo e per Liubenovic fallo fischiato ai danni di Liubenovic adesso palla per Firenze sotto canestro Poggio pallone lungo recuperato da Saia superiorità numerica può ripartire il Cus con Niola ancora per Saia si chiude molto bene Firenze Liubenovic giro palla Pugioni non riesce a controllare spreccata la ripartenza da parte del Cuscaglieri 2 minuti 6 secondi da giocare in questo terzo quarto 37 per il Cus 36 per la Firenze e adesso arriva il time out si riparte ancora 120 secondi da giocare in questo terzo quarto posso palla per Firenze Rossini va giù contatto secondo il direttore di gara con Gagliano fuori Pugioni dentro Prosperi Prosperi Niola Saia Gagliano Liubenovic questo il quintetto di Federico Sciascia in questo momento sbagliato il primo libero da parte di Rossini a segno col secondo 37 pari adesso Saia Liubenovic ci sta Cagnola arriva Gagliano può bloccare i piedi per terra e provare la conclusione dalla lunga distanza non ci pensa minimamente pallone affidato a Saia lo scarico Niola ancora la finta di Niola adesso Gagliano deve andare alla conclusione conclusione che arriva col canestro di Delia Gagliano più due ancora per il Cuscaglieri 39 a 37 ospite palla per Firenze con Rossini la penetrazione di Rossini si chiudono le maglie del Cuscaglieri arriva alla conclusione ma sono già trascorsi i 24 secondi in possesso della formazione ospite per andare alla conclusione adesso invece ne rimangono 60 giusti giusti per andare alla conclusione di questo terzo quarto possesso palla per il Cuscaglieri Niola per Saia chiede palla e riceve Gagliano movimento di Prosperi ancora Gagliano in sua palla mantiene lei il pallone e poi lo scarico ancora per Prosperi Prosperi sino in fondo lo scarico per Liubenovic 5 secondi ancora uno scarico c'è il tocco altro possesso palla per il Cuscaglieri che sta giocando col cronometro facendo passare secondi importanti un secondo per andare alla conclusione che arriva da parte di Prosperi poi Saia c'è il fallo su Saia che va a recuperare palla subisce anche il fallo andrà in lunetta 31 secondi ancora da giocare Saia s'assegno con primo tiro libero assegno anche con secondo 41 per il Cus 37 per Firenze adesso c'è il fallo di Caldaro in lunetta Anna Poggio sbaglia il primo libero sbagliato anche il secondo Liubinovic al rimbalzo ultimo possesso palla si fermano i 24 secondi sopra il tabellone per l'ultimo possesso palla in favore del Cuscagliari che potrà andare sino alla sirena nella gestione di questo pallone adesso Saia 7 secondi ancora Saia che va alla conclusione palla che danza sul ferro poi la palla rimane ancora in campo termina qui però il terzo quarto con il vantaggio del Cuscagliari 41 a 37 ha ribaltato completamente la partita la formazione allenata da Federico Sciascia che adesso si dovrà giocare questi due punti questa vittoria interna nell'ultimo quarto contro una corazzata come Firenze terza in classifica lo stesso palla per il Cuscagliari questo ultimo quarto della sfida valevole per la dodicesima giornata del compiunti serie 2 di basket femminile girone sud 41 per il Cus 37 per Firenze adesso Gagliano la tripla di Dea Gagliano dalla distanza che allunga ancora per il Cuscagliari 44 a 37 portapalla adesso De Marchi scivola Liubbenovic dice che era il netto anticipo ultimo tocco di Sofia De Marchi possesso palla per il Cuscao la numero 8 Silvia anzi no non c'è Silvia Rossini c'è la numero 9 De Marchi poi c'è la numero 11 speziali la numero 45 De Cassanna e la numero 15 Poggio adesso ancora un'infrazione fischiatta ai danni di Sara speziali questo palla per il Cus Cecili per Sayas si stacca Prosperi le finte di Prosperi gestisce lei però il pallone cerca spazio ancora Prosperi per la conclusione che arriva e mette a segno altri due punti massimo vantaggio per il Cuscaglieri più 9 su Firenze 46 a 37 adesso Rossini per appoggio palla recuperata da Liubenovic può ripartire ancora Cecili posizione centrale ma c'è il recupero di De Cassanna che tocca con una mano mandando il pallone sul fondo adesso fuori Marta Rossini alla sua posto dovrebbe entrare Silvia Rossini ma arriva anche il time out Marta Rossini che ha chiuso i primi tre quarti con 18 punti personali all'attivo migliore realizzatrice in casa Cus invece sono 9 quelli di Prosperi sono 8 quelli di Liubenovic e anche di Pugioni come 8 sono quelli di Silvia Rossini per Firenze seconda sirena per rientrare nel campo Federico Sciascia e Stefano Cursini hanno parlato alle rispettive ragazze Sciascia Sciascia e lei che cerca il cambio di passo lo scarico per Asaias la penetrazione ancora Asaias protegge il pallone Prosperi dalla distanza palla che non tocca neanche il ferro ma c'è il fallo anzi no, non c'è fallo pallone affidato a Firenze Rossini per De Marti ancora Silvia Rossini pallone dentro per appoggio Ljubbenovic l'ostacola l'ostacola bene poi Gagliano affidata a Asaias Prosperi si gestisce il posto palla ancora con Ljubbenovic Gagliano non riesce ad arrivare sul pallone giocato da Cecili Rossini dalla distanza poi Ljubbenovic sporca ancora il possibile rimbalzo per Firenze che progestisce anche questo posto palla adesso Gagliano intercetta il pallone di Rossini palla affidata ancora Cecili dalla parte opposta per Prosperi la penetrazione di Prosperi si è in fondo palla appoggiata alla tabellone altri due punti per Prosperi per Prosperi speciali De Marchi la tripla di De Marchi anzi da due da due era proprio al limite 48 per il Cus 39 per Firenze adesso Cecili va via a lei lo scarico per Sayas cade anche Cecili poi Sayas viene stoppata può ripartire Firenze De Marchi palla schiacciata a terra pallone fuori Rossini ancora con il canestro di De Kassan si riparte ancora Cecili in palleggio lo scarico per Prosperi esce Gagliano che riceve ancora Prosperi Dubenovic alla conclusione sarebbe stata comunque da due punti l'ultimo tocco l'ultimo tocco viene dato a Gagliano parla tanto Federico Shashacon le proprie giocatrici 5 minuti 32 secondi ancora da giocare in questo ultimo quarto adesso conclusione di De Kassan dalla distanza pallaghetto che ha il ferro Cecili è la più lesta Dubenovic Prosperi riceve lei c'è Gagliano spaglia canestro ancora scarico per Pugioni Pugioni fuori giro palla Cecili blocca i piedi per terra va alla conclusione dalla distanza pallaghetto che il ferro può ripartire ancora Firenze con Marta Rossini De Marchi ancora palla scacciata a terra Rossini conclusione da sotto canestro poi si ostacolano Dubenovic e Pugioni ultimo tocco della numero uno in casacca bianca ancora Marta Rossini la controlla Prosperi Marta Rossini va alla conclusione Prosperi però la limita e la controlla molto bene Cecili adesso Dubenovic per Prosperi Gagliano si muove sotto canestro lo scarico con Pugioni che va dalla distanza e alza il pugno al cielo per questi tre punti che portano a più dieci ancora il Cuscagliere a 4 minuti e 20 secondi dalla Sirena Rossini lottano sotto canestro Dubenovic e Dell'Olio a sua conclusione corta ancora Dubenovic a strappare il pallone dalle mani delle giocatrici di Firenze ancora Pugioni ancora piedi piantati per terra questa volta tocca il ferro non va a segno con la tripla può ripartire così Firenze ancora con Silvia Rossini pallone dentro Dell'Olio spaglia canestro palla recuperata ancora da un ottimo a Cecili che poi viene chiusa da due avversarie recupera pallone recupera anche il possesso palla e arriva un altro time out vediamo Federico Sciascia davanti alla sua panchina al suo fianco Scias tutte attentissime le sue ragazze comprese Capitan Erika Striulli e anche Federica Madedu in panchina nonostante nonostante 3 minuti 26 secondi da giocare in questo ultimo quarto 51 51 per il Cus 41 per Firenze c'è cecili per Caldaro arriva arriva Pugioni lo scarico per Prosperi ancora Prosperi la sterzata perde però palla c'è il tocco di piede tocco di piede di una giocatrice c'è Toscana posso palla ancora il Cus con Prosperi che cerca e trova Caldaro adesso Cecili la finta di Cecili nel palleggio stretto Prosperi c'è il fallo fischiato contro Liubenovic cerca di spiegarsi Liubenovic gesto di intesa poi colla direttore di gara Rossini lo scarico per Silvia Rossini dalla parte opposta De Marchi non riesce a bloccare il pallone mani in faccia per capitana Silvia Rossini tra i capelli invece per coach Stefano Corsini posso palla ancora per il Cus adesso Liubenovic c'è il fallo di De Kassan quinto fallo di De Kassan termina così la sua partita dentro la numero 10 Sofia Dell'Olio Caldaro Prosperi cerca di liberarsi Liubenovic esce dai blocchi invece Cecili la sterzata però sbaglia il controllo perde il pallone ammette l'errore chiede subito scusa per il fallo commesso già rimessa in gioco la sfera con Silvia Rossini che scarica per Marta Rossini ancora palla messa fuori per il capitano di Firenze poggio dalla distanza palla che non tocca neanche il ferro adesso c'è un problema 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 per Dell'Olio si avvicina anche il medico del CUS la dottoressa della formazione caglietana Pugioni palla dentro per Liubenovic toccata pensavamo almeno da qui sembrava così dalla numero 11 speziale invece la direttrice di gara la signora Anna Scolaro della stazione di Torino meglio appostata sicuramente rispetto alla nostra posizione dice che l'ultimo tocco invece di Anna Liubenovic questo palla per Firenze più 10 ancora per il CUS Rossini sino in fondo cerca lo spazio va alla conclusione il ferro le dice di no poi Cecili recupera anche questo pallone 1.30 ancora da giocare più 10 per il CUS Liubenovic movimento di Pugioni arriva la palla a Pugioni poi Cecili c'è il fallo su Liubenovic il fallo di Rossini Pugioni per Caldaro Prosperi 10 secondi ancora da giocare c'è il pressing forte di Firenze e Prosperi sino in fondo Pallaghetto che ha il ferro poi rientra in campo non riesce nel rimbalzo può ripartire però la formazione toscana con De Marchi la sterzata di De Marchi e poi va alla conclusione ma ancora Liubenovic sotto canestro subisce fallo dal numero 15 Anna Poggio quinto fallo anche per lei termina la sua partita arriva un altro time out 55 secondi da giocare più 10 per il Cuscagliari che vede il traguardo vede la possibilità di portare a casa questi due punti ma soprattutto di battere la terza in classifica ancora Federico Shasha per non far calare la tensione la concentrazione alle proprie ragazze posso palla per il Cus Prosperi per la rimessa in gioco si stacca a Cecili ultimo tocco di Rossini ancora Caldaro Prosperi la finta di Prosperi lo scarico Pugioni Caldaro c'è la penetrazione palla fuori ancora per Liubenovic la sterzata palla schiacciata a terra non recuperata da Caldaro ci potrebbero essere due possessi palla da qui alla fine 32 secondi da giocare 24 per andare alla conclusione per Firenze tutto da gestire per il Cuscagliari il cronometro più 10 per le Cussine ancora De Marchi per Rossini palla dentro De Marchi va alla conclusione c'è il canestro numero 43 per Firenze ultimi 5 secondi cecili va alla conclusione palla che tocca il ferro vince il Cuscagliari si abbraccia Federico Sciascia con il suo staff va a complimentarsi con le sue ragazze che portano a casa questi due punti questa bella vittoria casalinga per 51 a 43 nella dodicesima giornata del campionato nazionale in Serie 2 di basket femmine tra il Cuscagliari e la pallacanestro femmine Firenze a me non rimane altro che ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito in presa diretta per questa questa sfida targata sempre Directa Sport ringraziare Andrea Farris per le immagini e la parte tecnica io vi saluto e poi da bordo campo si proseguirà con le interviste del post partita ancora un ringraziamento e una buona serata ad Alessandro Carta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti